Si apre oggi la 47esima edizione della Barcolana di Trieste, la storica regata che riunisce migliaia di imbarcazioni provenienti dall'Italia e dall'estero, una città in fermento che costruisce, allestisce e prepara per accogliere gli oltre 200.000 spettatori della manifestazione. Diciamo che il dubbio può riguardare eventuale maltempo, solo questo, ma se il tempo è eccessivamente troppo vento, questo scoraggia qualcuno. Però la maggior parte comunque ci prova lo stesso, perché esserci dentro è una cosa indescrivibile, bisogna provarci. E poi Trieste è una città di appassionati di mare, di velisti che vanno abitualmente fuori anche con la bora, quindi con il vento forte. Quindi in linea massima non sono molto scoraggiati dal maltempo. Chiaramente qualcuno un po' più dice, ma se ci avviene pioggia un po' così. Penso che comunque sarà una partecipazione più o meno come sempre abbastanza numerosa e interessante. È una grande festa, viene ricordata come grande festa, in realtà la regata è l'ultimo giorno, domenica però inizia il villaggio e da oggi si aprono. Specialmente il sabato è una grande festa per la città, perché tutti vogliono vedere, guardare le barche. Poi adesso quest'anno hanno organizzato anche in maniera di convogliare il flusso di turisti più verso il centro. E quindi ci sarà anche un'accoglienza per gli ospiti interessante anche da parte della città. E quindi comunque è una grande festa, c'è una ressa enorme di gente, è un'acqua un po' unica. Per chi non l'avesse mai conosciuta, come si può raccontare la Barcolana? E come si può raccontare la Barcolana? Perché è della data vecchia qua a Trieste. Quante persone partecipano? Non so, qua sarà 100 mila sicuro. La città si trasforma in quei giorni? Ma sì, se quel giorno è domenica, è l'undici, purtroppo è tutto pieno l'acqua. Ci sono tanti equipaggi che arrivano anche da fuori dall'Italia? Da fuori dall'Italia vengono, non so, vengono dalla Slovenia, vengono dalla Croazia, vengono dalla Germania, da tutti i stati. È una festa anche per chi poi non partecipa, anche per chi viene a vedere? Per tutti, per tutti, tanto super, i monti qua è pieno di gente che guarda, a me come me non mi interessa di rimanere qui. Vado su, o piccina, non so, su di là, vedi, la chiesa, vado di là e guardo un poco, poi dopo vado in giro, che non sono proprio affattato della barca, sono di Trieste perché tutti noi siamo. Un vero e proprio villaggio, pensato anche con tantissimi espositori, allora in questo caso l'affluenza deve essere alta? Sì, questa è una manifestazione molto importante e si ripete tutti gli anni con tantissima, tantissima gente, più di 300.000 persone, soprattutto nel weekend. È importante anche dire, in questo caso per questa edizione ci sono già dei pronostici sulle affluenze? Credo che la manifestazione stessa sia un sinonimo di garanzia, perché è sempre attratto tantissima gente, quindi speriamo anche per quest'anno. Il tempo non incide in questo? Il tempo è importante, l'importante è che non piova, anche se c'è Bora, come a Trieste, la gente ci sarà. L'importante è la pioggia, speriamo di no. L'Abruzzo punta sull'artigianato artistico e ci sarà una mostra permanente per tutti i giorni della Barcolana, far conoscere tradizioni e bellezze, perciò nell'esposizione su cosa si punta? Si punta a far conoscere soprattutto la nostra regione, le eccellenze della nostra regione, perché è una delle poche regioni meno conosciute in Italia e noi comunque abbiamo tantissimi bravissimi artigiani nella nostra regione, che nessuno sa, allora stiamo cercando di muoverci per far conoscere le nostre eccellenze. Dell'artigianato cosa è presente nella mostra? Un po' tutto, il tombolo, l'orificeria, la ceramica, la pietra, il ferro battuto, tutti i settori dell'artigianato. In questo caso l'Abruzzo che ambizione ha in questi cinque giorni? L'ambizione è di far conoscere le nostre eccellenze, poi esiste l'ente mostra dell'artigianato artistico abruzzese, che si trova a Guardia Grele, che è un'eccellenza a livello nazionale, dove c'è un museo permanente che è aperto tutto l'anno e poi nel mese di agosto, dal primo al 20 agosto, diventa una mostra nazionale e adesso anche internazionale, dove vengono a esporre gli artigiani. Importante prendere contatti in questi giorni? Sicuramente, noi veniamo qui apposta per prendere contatti e far venire delle persone, degli operatori del settore nella nostra regione, questa è la cosa più importante, portare gente nella nostra regione. Dopo 25 anni ho questa grande emozione di vedere l'Abruzzo tutto unito, finora siamo riusciti a fare, a portare l'Abruzzo singolarmente tutto, oggi invece abbiamo al completo con gastronomia, artigianato e tutto il resto. Il villaggio è davvero vivo, tantissimi espositori e tante presenze. È una conferma ogni anno o è una sorpresa ogni anno? Da un lato è una conferma, nel senso che ormai questo è un evento consolidato, è il main event di tutto il Friuli Venezia Giulia e probabilmente dell'Alto Adriatico su questo tema. Ma è sempre una cosa nuova perché una delle idee vincenti che ha sempre avuto la Barcolana è quella di innovarsi e quindi allargarsi. Quest'anno c'è una grande attenzione anche alla cultura, ha una serie di proposte anche enogastronomiche diversificate relative non solo ai paesi dell'Adriatico ma anche quelli dell'Introterra. La Bora c'è, la state assaggiando, speriamo, non diciamo nulla per scaramanzia, ma credo che tutto fa ritenere che sarà un'edizione che supererà quella dell'anno scorso. La Camera di Commercio ha davvero un ruolo molto importante e di grande responsabilità. Qual è il dato che vi fa capire che è andata bene e sta andando bene? Insomma ormai è consolidato, il dato lo avremo domani, giovedì, venerdì, vedremo quanti iscritti ci saranno, oggi siamo più di 900, manca più di una settimana, normalmente le iscrizioni maggiori vengono nell'ultima settimana e negli ultimi giorni. Il dato, beh questa è una barcolana speciale, una barcolana molto più organizzata, devo dire la verità, con tantissime novità, dura più giorni, è già partita domenica quella barcolana Young dei Optimist, dei ragazzini, con regate, concerti, mostre, insomma non è più una barcolana solo sulle rive, ma è coinvolta tutta la città e anche la periferia della città per quanto riguarda Trieste. Ma in questa festa sono coinvolti la Slovenia, Croazia, Austria, tutto il fruio di Venezia Giulia, insomma è una festa del mare, che non è più solo di Trieste, ma è di tutta l'Italia, di tutti gli appassionati di Vela. E per cui i dati economici ogni anno, se non è che io, quest'anno si prevedono 700 mila visitatori, per cui un dato veramente da record. C'è stato l'ampliamento sul canale di Ponte Rosso, grazie anche alla regione Abruzzo, che è presente in maniera massiccia e non solo, poi ci sono altri nella piazza Ponte Rosso, davanti al palazzo della Camera del Commercio, ma è una festa che dà una boccata all'ossigeno a fine stagione, quando gli alberghi sono vuoti normalmente, e si riempiono per questi quattro giorni di festa del mare. È una zona di confine, ci sono tantissimi equipaggi che arrivano anche da fuori dall'Italia, però Trieste è abituata a vedere tutto ciò che non è soltanto Italia, perciò in realtà non si vive questa festa come l'arrivo degli stranieri. No, beh, Trieste è una città da sempre multietnica, multireligiosa, per cui ognuno di noi, i triestini, siamo abituati a sentire più lingue, a parlare per strada, nei negozi, nei bani, nei ristoranti. Noi stessi in Camera del Commercio abbiamo bilinguismo sloveno e italiano, per cui è una città abituata agli stranieri, e di fatti gli stranieri poi stanno riscoprendo Trieste, città turistica, cosa che non avevamo, se no in queste occasioni, invece tutto l'anno abbiamo un turismo che si ferma una notte o due notti, e per cui siamo in crescita addirittura a due cifre, positivamente parlando. Poi abbiamo anche le crociere che stanno, c'è tutto un movimento che anche gli italiani hanno riscoperto Trieste, e non solo gli stranieri. Per il sindaco di Trieste, questo che è un avvenimento di caratura europea, per la sua 47esima edizione, racconta che ci sono delle novità, ci sono ancora più servizi e spettacoli, ma come si vive? Direi si vive con grande entusiasmo da parte di tutti, perché è sempre più una festa del rapporto tra questa città e il mare, quindi va oltre la dimensione pur bellissima e unica al mondo di una regata di 2.000 barchi a vela, e diventa un'occasione per declinare in tutti i modi possibili la storia, l'attualità e anche le prospettive del legame fra Trieste e il mare. Quindi è la festa di Trieste a tutti gli effetti. A cosa si fa attenzione per un sindaco di questa manifestazione? Qual è la cosa più importante? Considerato che tutto può disporre il sindaco, ma non del vento e delle condizioni meteorologiche, anche se probabilmente di questi tempi quando piove qualcuno dice che è colpa del sindaco, ma lo sforzo è quello evidentemente di un'organizzazione che consenta a tutti di vivere l'evento in modo festoso, in modo sereno, fornendo i servizi necessari a che una massa così imponente di persone e di eventi non comporti viceversa delle criticità. Ecco, diciamo che lo sforzo è fare una grande festa per tutti, il che implica un lavoro di centinaia e centinaia di persone, operatori e volontari, che vanno ringraziati perché è l'impegno di queste persone che consente a un numero che non saprei dirle oggi, due, trecento, quattrocento mila persone in questo fine settimana, di vivere una grande festa. Qual è la cosa più importante nell'organizzazione? Perché questa davvero è una responsabilità a Trieste, conosciuta e riconosciuta per questa grandissima manifestazione. La caratura europea e allora per chi organizza e chi la inventa qual è la cosa che non deve mancare? La cosa che non deve mancare è lo spirito di squadra. Questa manifestazione è possibile perché riusciamo a coinvolgere istituzioni, sponsor, regioni, autorità su un progetto veramente molto complesso, ma tutti sono a bordo della stessa barca e sono parte di un equipaggio. Questo è il segreto della Barcolana, un grande team, una squadra straordinaria. Cosa dicono quelli che partecipano, come vengono a sapere della Barcolana, come la considerano? La considerano un'esperienza unica, qual è? Non c'è regata al mondo così divertente, così emozionante. Questa mattina ho incontrato Paul Caillardo che torna quest'anno in Barcolana dopo 15 anni e lui la ricorda ancora come una regata straordinaria che non è uguale in tutto il mondo e lui di regate ne ha fatte davvero dappertutto. Si trasforma la città in una settimana di Barcolana, vengono coinvolti i bambini nei laboratori di modellismo, costruiranno delle piccole barchette che vareremo tutti assieme davanti proprio al villaggio dell'Abruzzo sabato alle ore 15. Ci sono degli professionisti molto importanti, uno che parteciperà e è tornato da una grandissima regata? Alberto Bolzan che dopo il Giro del Mondo ha voluto essere in Barcolana e sarà su una barca velocissima tra le favorite. Quest'anno abbiamo tre barche che veramente possono dire la loro e arrivare sul podio e vincere la Barcolana, quindi sarà veramente una Barcolana molto molto divertente. Grazie a tutti.